Passiamo alla fase finale della concia. Dopo aver tolto la pelluria della pelle, mettiamo le nostre pellicce in acqua e lasciamole stare per due giorni. Agitiamo di tanto in tanto, stendiamole al sole e lasciamole scocciolare. E con la carta vetrata raschiamo il superfluo. Già di esse sono belle morbide, diventeranno ancora più dopo. Passate al lume di rocca sulla parte liscia, pettinate la pelle. A questo punto la nostra pelle è bella morbida, possiamo conservarla per usarla in quello che vogliamo fare.